Qualcuno in regione ci deve spiegare perché a Corato non viene ancora istituita l'unità operativa di rianimazione funzionale e strumentale a quella molto attiva di ginecologia e ostetricia dove da sempre si registrano circa mille parti all'anno ed invece si è pensato di allestirla presso l'ospedale di Biceglie dove peraltro il reparto di ginecologia ha fatto registrare nell'ultimo periodo soltanto circa 300 nascite e che dunque in base agli attuali standard ministeriali dovrebbe essere invece chiuso. E' il duro commento del sindaco di Corato Massimo Mazzilli sull'attuale situazione di stallo nella gestione del piano di riordino ospedaliero regionale relativamente al quale recentemente il consiglio comunale Coratino ha anche approvato all'unanimità un documento recante proposte di modifica essenzialmente incentrate sul mantenimento dell'attuale dotazione dei reparti dell'ospedale Umberto I e l'istituzione dei reparti di rianimazione e di cardiologia. Sia chiaro, ha proseguito nella dura nota Mazzilli, non intendiamo scatenare inutili guerre di campanile fra le nostre città ma esclusivamente razionalizzare sia in termini di costi che di efficacia la gestione della sanità nell'intero territorio del norbarese evitando assurdi sprechi di denaro pubblico e dannose allocazioni o smobilitazioni di reparti che non apportano nessun vantaggio ai territori. È inconcepibile e contrastante di ogni principio basilare di gestione efficiente ed efficace della cosa pubblica, prosegue il sindaco di Corato, potenziare l'ospedale di Bicelli attualmente considerato di base come quelli di Corato e Molfetta mantenendo il reparto di ginecologia affiancandolo con quello di rianimazione quindi in aggiunta a quelli già operativi su Andria e Barletta rendendolo ospedale di riferimento del territorio del norbarese con enormi e dispendiosi interventi economici quando invece con una gestione più razionale e molto meno dispendiosa ha ricordato Mazzilli basterebbe attuare piccole misure di potenziamento degli ospedali di Corato e Molfetta così come richiesto formalmente dai sindaci del territorio con un documento già indirizzato alla presidenza della regione nell'aprile scorso.